Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnala la chiusura del tratto tra Aglio e Roncobilaccio per lavori fino al 20 novembre. Sul raccordo Bettolle-Perugia fino al 20 novembre è chiuso lo svincolo di Cortona in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. Sulla statale 1 Aurelia fino a fine novembre lavori a tratti saltuari tra Scarlino e Venturina in entrambe le direzioni 3 km 221,800 e 226 con scambio di carreggiata. Sulla statale 3 Bistiberina scambio di carreggiata 3 km 149, 550 e 144,700 con chiusura dello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in entrata e uscita in direzione Orte. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!